Mi chiamo Yulia Merkodinova, sono ucraina. Partecipare in questo concorso non è stato molto molto facile, arrivare in finale pure. Il livello, devo dire, è abbastanza molto alto. Quindi sono stata veramente sorpresa di questo livello. E certamente dopo tutto questo fermo, dopo il Covid, sicuramente è una grande gioia di ritornare, di cantare con la giuria in presenza. Perfetto.